Lumen, arte contemporanea incontrolute. L'evento espositivo dedicato all'arte urbana contemporanea è promosso dall'Ottica Bisogno, dal 15 al 30 maggio presso gli spazi del complesso monumentale di Santa Sofia a Salerno. Elemento preponderante dell'esposizione sarà la luce che illuminerà l'arte e la creatività contemporanea. Ottica Bisogno, la luce dei tuoi occhi. Ottica Bisogno, la luce dei tuoi occhi.